Buongiorno dal touch per la rassegna stampa che apriamo con la prima del Roma, Natale definito a rischio per la prospettiva dei contagi verso le festività continuano a crescere ma il governo punta a non chiudere, si spinge sulle terze dosi, già 3 milioni. Nel dettaglio interno no al Green Pass donne sfilano in rosa, per la manifestazione di Milano sono state arrestate 3 persone e identificate 91. Le proteste a Firenze in 5 mila manifestano con la vicequestore Schilirò giusto ribellarsi contro la dittatura sanitaria. Evieta l'accesso a un Novax butta fuori picchiato a Bari, due colpi di pistola contro l'addetto alla sicurezza. La curva che sta risalendo, la differenza la farà il vaccino. L'Italia resta bianca, un anno fa le misure drastiche, c'erano circa 500 decessi al giorno, oggi siamo a 70. In Campania altri 875 nuovi casi, l'indice del contagio è salito rispetto al giorno precedente. Sileri sarà un Natale libero, il CTS, revisione durata del Green Pass se aumentano i casi, in Austria lockdown per i non vaccinati. Raggiunti 3 milioni di terze dosi, il ministro Di Maio faremo di tutto per tenere aperto il paese. Ed è corsa per frenare il virus, i sindaci prendono provvedimenti, da Bolzano a Catania, mercatini blindati e mascherine all'aperto, ma in Campania l'obbligo c'è sempre stato. Rifiuta, sia vaccino che tampone, sospeso magistrato. La decisione della Procura Generale di Venezia dopo aver verificato che non aveva il Green Pass. Quirinale, rischio di battaglia, troppi nomi, resta l'Impass, Berlusconi, questo governo fino al 2023 e oltre. Di Maio bisogna proteggere Draghi, Nencini, la giacca del Premier si spiegazza sempre di più. Certificati anagrafici online, da oggi il via alla piattaforma, Mattarella è stato il primo a scaricare un documento. E sulla qualità della vita, Napoli giù, Parma prima, Crotone ultima, scalano la graduatoria anche Bologna e Milano. Le violenze in 108 rischiano il processo per quanto accaduto nell'Istituto Penitenziario di Santa Maria Capoavetere le richieste della Procura per i pestaggi ai detenuti. Il 15 di dicembre in programma l'udienza preliminare davanti al GUP per 12 chiesta l'archiviazione. Mal tempo muore anziano in Sardegna l'isola devastata da fango e acqua e allarme a Cagliari. Tessere fantasma al circolo PD. Mormile, il sindaco si dimetta. A minori, indagati Reale e altre sei persone. Tuona l'opposizione. Atto gravissimo. Politica mai così in basso impedito il voto libero alla cittadinanza. I controlli. Nella Movida, chiuso un bar a Vattipaia, identificate 7.237 persone, verifiche sul rispetto del Green Pass. Ad Avellino l'attesa per le provinciali verso l'alleanza PD 5 stelle. Inoltre la qualità della vita nel dettaglio regionale Benevento precipita agli ultimi posti. Dai primi dati emerge che tiene il settore sicurezza mentre va malissimo sul fronte affari e lavoro. La cronaca da Napoli bilancio la prima sfida in aula per Manfredi. Domani la sfisa è chiamata ad approvare il consolidato e necessario per le nomine dei vertici del municipio. La prima di Repubblica la svolta Green dei mercati. Dopo l'accordo sul clima a Glasgow, banche, fondi e multinazionali scommettono sull'economia verde nonostante l'esito di COP26. Gli investimenti responsabili passeranno da 38 mila miliardi di dollari a 53 mila entro il 2025. Cingolani, l'India ci ha messo spalle al muro, fatto il possibile. Da Glasgow a Charm, obiettivo emissioni zero. L'ostacolo però è il carbone. Johnson, dalla COP condanna a morte del fossile, ma gli esperti il target di 1,5 gradi a rischio. Il silenzio degli altri leader mondiali già si guarda al summit del prossimo anno in Egitto. Cingolani, ai miei figli ho detto che era impossibile fare di più, l'India ci ha messi spalle al muro. L'intervista al ministro della transizione ecologica. In arrivo a un fiume di denaro, il business verde piace ai mercati. I fondi per l'ambiente diventeranno circa 53 mila miliardi nel 2025, ma resta il rischio greenwashing. Modi festeggia la vittoria con un lockdown per smog. New Delhi da oggi si ferma. Il caso con l'India che ha annaquato l'accordo sul clima salvando il carbone, ma ora la sua capitale chiude scuole e uffici. Frane nuvi fragili, autunno caldo che flagella l'Italia. In Veneto bacini a secco mentre il sud è travolto dalla pioggia. Un novembre sconvolto dal clima che cambia. Gli italiani a Coppa 26 un passo avanti ma non basta. Uno su tre la considera un'occasione sprecata. I giovani più preoccupati, il sondaggio per l'evento di Green and Blue sul clima. Da Kerry a Parisi i politici e scienziati incontrano i sognatori. Domani l'Open Summit. Andiamo anche con i riflessi regionali da Repubblica, Repubblica Napoli. La qualità della vita Napoli maia nera tra le metropoli. La classifica, siamo penultimi, peggio ha fatto solo Crotone. La vice sindaca Filippone, la politica non ha aiutato molto. Il recovery è un'opportunità. Lavori per la metro, pagamenti in ritardo. I concessionari chiedono al Comune 143 milioni. Inoltre la maratona al Plebiscito è trionfo africano ma il traffico va in tilt. In 1500 alla gara che ha visto vincere atleti del Kenya e del Rwanda, primi sui 42 chilometri e 195 metri, a metà mattinata lunghe code ai barchi anche a causa della chiusura della Galleria Vittoria. Dal lavoro all'istruzione, Napoli penultima. La classifica, peggio di Napoli, solo Crotone. La politica non ha aiutato molto. La maglia nera a Napoli anche per ambiente, sicurezza, tempo libero e turismo. Torture in carcere e omicidio colposo. La procura chiede il processo per 108. I magistrati chiudono l'inchiesta sulle violenze a Santa Maria Capoavetere, imputati dirigenti e agenti del servizio penitenziario. 12 di essi sono anche accusati per la fine di un detenuto algerino lasciato morire dopo le percosse. L'evento con Procida, capitale della cultura, cercano si volontari già tante adesioni via al programma per partecipare alla organizzazione della Kermess che partirà il 22 gennaio per gli aspiranti un percorso di formazione. Attesa anche per il calcio con Irlanda del Nord Italia, Napoli terzino sinistro cercasi, anche il mercato per gli azzurri favorito e Reinildo mandava del Lille. Ora i dettagli sui casi Covid in Campania nel servizio. Prosegue in maniera significativa la diffusione del Covid in Campania, dimostrazione che siamo nel pieno della cosiddetta quarta ondata della pandemia. I dati diffusi dal bollettino dell'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza parlano di 875 nuovi contagi, 45 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.463 tamponi processati. L'indice di positività sale al 3,44% e ci sono anche due nuovi decessi, uno di ieri e un altro nei giorni scorsi registrato solo nelle scorse ore. Di pari passo alla diffusione del contagio aumentano anche i numeri dei ricoveri. Nelle terapie intensive ci sono altri tre ricoverati rispetto a 24 ore fa e il numero di letti nelle degenze ordinarie è salito a 292, su un totale di 3.160 tra posti letto Covid di offerta privata. In isolamento domiciliare in tutta la Campania attualmente ci sono 12.226 cittadini. E intanto frena anche la campagna vaccinale. In Campania ad oggi sono state somministrate 3.830.000 dosi di siero, ma a Napoli ci sono ancora 200.000 adulti non vaccinati. L'Asla Napoli 1 sta valutando in queste ore l'opportunità di chiudere i grandi hub come quello della mostra d'oltremare, decisione che sarà assunta solo dopo il vertice di martedì prossimo convocato dal presidente De Luca in regione con tutti i manager di Asli e ospedali per fare il punto della situazione in vista della campagna per le terze dosi in partenza dal primo dicembre. La prima del mattino Green Pass, la stretta di Natale. Il certificato legato al vaccino e non più anche ai tamponi, la decisione in base ai ricoveri. Il Covid assedia l'Europa ma nessun limite agli arrivi. Ad Ariano Irpino positivi 18 preti. Virus Italia assediata ma nessun limite agli arrivi dall'estero. Epidemia fuori controllo in Slovenia, Austria, Germania. C'è il coprifuoco in Olanda. Boom di casi tra i pellegrini italiani di ritorno da Međugorje in Bosnia. Ad Ariano Irpino positivi di vescovo e parroco. In quarantena 18 preti saltano le messe. L'infezione si sarebbe propagata dopo un ritiro spirituale nell'eremo dei Camaldoli ad Arezzo. Ad Ariano Irpino l'ospedale Francipane che fu presidio di frontiera quando la cittadina era a zona rossa nel tondo il vescovo medillo. Green pass verso la stretta poi la pillola contro il Covid. A dicembre certificato legato ai vaccini e non ai test decisivo il tasso di ricoveri. Speranza le prossime settimane saranno insidiose usate le mascherine. Londra invece vuole abolire la quarantena. Incinta e positiva uccisa dal virus a 27 anni. Era morta già la bimba prematura. La giovane cilentana ricoverata da tre mesi in ospedale a Napoli. Terapie intensive in affanno. Friuli e Marche più vicine al giallo. La Cina due anni dopo tra il mistero del virus e i dati truccati sui morti. Solo 4.600 vittime 98.000 casi. Pechino punta a zero Covid ma nessuno ci crede. Per l'FBI è falsa la pista dell'origine naturale. Quattro agenzie USA contrarie. Nuova indagine OMS. Sì, di Saldini e Berlusconi. Via al tavolo tra leader per la manovra e il colle. Letta prova a far partire il dialogo. Arriva l'ok del capitano. Lo chiedevo da tempo. Timori per il governo senza un candidato condiviso può spezzarsi. L'unità nazionale. L'intervista a Stefano Ceccanti. Il mattarella bis è l'unica via. Il mandato deve essere pieno per dare stabilità alla politica. Un'altra maggioranza. La tentazione dei partiti con Draghi al Quirinale. Lontana l'ipotesi di elezioni anticipate. I parlamentari non vogliono lasciare. I leader spinti a rimescolare le alleanze in funzione della campagna elettorale. Pubblica amministrazione. Basta code allo sportello via i certificati gratis online. Taglio del nastro per l'anagrafe digitale. Il primo documento scaricato da Mattarella. Subito disponibili 14 attestati anagrafici. Piattaforma attiva per il 98% dei cittadini. Per usufruire del servizio online è necessario scaricare Speed o CIE. La procedura nelle varie indicazioni. Avellino fuori dal circuito. Maglia nera tra i capoluoghi. 17 mila errori nel database. Nessun certificato disponibile prima del 10 dicembre. Insieme con altri 61 piccoli comuni del mezzogiorno. Il dettaglio che arriva dall'Irpinia e dal capoluogo. Andiamo con Napoli. Il nord riparte. Napoli affonda. Manfredi. Non ci sono soldi per strade e verde. Basta ostruzionismo sul salva debiti. E la vittoria di un Kenyota. La maratona multietnica. Partenza con la mascherina. Qualità della vita. Napoli in picchiata. Solo crotone peggio. Sicurezza rifiuti e disastro trasporti. Il capoluogo peggiorato in ogni campo. Consiglio. Sprint sul bilancio per dare l'ok alle assunzioni. Selezione per 35 dirigenti. Dopo il battesimo di venerdì scorso. L'assemblea torna a riunirsi già domani per la manovra. Municipio profondo rosso. Mancano anche le penne. Pochi soldi per la spesa corrente. Ritardi sulle gare per i beni essenziali. Dalla cancelleria ai mezzi per i vigili. Il governo si faccia carico del problema. Napoli. Israele. Sia al dialogo a febbraio. Terremo qui. La conferenza sull'agritech. Svolta nei rapporti tra il comune e l'ambasciata. Dopo dieci anni di gelo e tensioni con De Magistris. Il dissesto. Travolge otto comuni. Tagliati trasporti e welfare. Da Marano a Melito. Da Nola a Bacoli. Aumentano le città in default. A rischio i servizi essenziali. I sindaci attaccano. Non c'è solo Napoli. Natale. Fiera blindata. Senso unico pedonale. Varchi ai decumani. Accessi contingentati dall'8 dicembre. Pronta all'ordinanza con le nuove regole. Sfida degli assessori dei esui. Armato. Con più sicurezza si aiutano i pastorai. Napoli est. Giù il mostro di cemento. Ora ridateci la bellezza perduta. Oggi al via i lavori per demolire il viatutto tra Ponticelli e San Giovanni. Anni d'attesa. Focolaio in clinica. 12 casi tra pazienti e infermieri. Villa dei Fiori. Effettuato lo screening ad Acerra. 5 contagi nel reparto di cardiologia. A fratta minore il covid uccide un trentanovenne. Da pochi giorni era diventato padre. In le storie. Siamo i precari del virus. Il posto fisso. Un miraggio. I giovani medici e sanitari. Non abbiamo mai visto tanta sofferenza. È stata una guerra. Ad Avellino. Anagrafe digitale. Capoluogo tagliato fuori. Unico capoluogo di provincia. italiano. Avellino. A non poter offrire questo servizio ai cittadini. Il circuito nazionale sarà in funzione da oggi. L'opposizione attacca mancanza di programmazione. Il flop dell'anagrafe digitale. Avellino è fuori dal circuito. Il servizio consente da oggi di scaricare i certificati a casa. Ma gli avellinesi non possono ancora farlo. Ci consoliamo con la sicurezza. Siamo al dodicesimo posto in Italia. Qualità della vita. L'indagine di Sapienza Italia oggi. Sul lavoro. Ambiente. Salute. Tempo libero. Il reddito. Non brilliamo. Commissioni. Il sindaco rischia un altro smacco. Le opposizioni. Ad eccezione di spiezia. Chiedono a gran voce il commissario ad acta. lettera al prefetto per sollecitare l'insediamento dei sette organismi. La seduta con un consiglio comunale dedicato al randagismo. E poi la rigenerazione urbana. Arrivano i fondi per nuovi alloggi a via Francesco Tedesco. Ad Ariano. Preti in quarantena. I diaconi celebrano le messe. Una domenica particolare nella diocesi a causa dell'isolamento per virus di 18 parroci. Il servizio. Ad Ariano Irpino. Zona rossa. Nella prima ondata Covid è tornata la paura. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive altre 10 persone. complessivamente ora in città sono 30 gli infetti. A proposito di questi ultimi casi si tratterebbe di soggetti quasi tutti vaccinati e ricompresi in tutte le fasce di età. Dagli anziani ai più giovani. Su tutto il territorio provinciale irpino si contano nelle ultime 24 ore 49 nuovi positivi. Intanto è sereno ed asintomatico Don Sergio Melillo, vescovo di Ariano Lacedonia. Risultato anche lui positivo al Covid dopo il ritiro spirituale a Camaldoli in Toscana. Sta vivendo questa esperienza in episcopio, ad Ariano, nella preghiera e nella meditazione e non accusa particolari sintomi. Con lui c'erano 18 sacerdoti della diocesi, tutti in isolamento. Il parroco di Flumeri e Trevico, Don Claudio Lettieri, avvertiti i primi sintomi, è stato precauzionalmente ricoverato a Siena. C'è attesa ora per l'esito dei tamponi cui si sottoporranno le persone entrate in contatto con i sacerdoti prima della partenza per la Toscana. Celebrazioni eucaristiche domenicali che sono state comunque garantite dagli altri sacerdoti e dai diaconi che non avevano partecipato al ritiro. Si punta sulla terza dose per contenere l'avanzata del virus, oggi diffuso soprattutto tra le fasce non immunizzate, in particolare i bimbi sotto i 12 anni e gli over 50. Proprio per questo si attendono due importanti scadenze. La terza dose, estesa gli over 40 dal primo dicembre, è l'avvio delle somministrazioni tra i 5 e gli 11 anni, una volta ottenuto il via libere europeo entro Natale. Terza dose di vaccino snobbata dai prof i sindacati. Si dividono Bonavita Cisl Sriglia, il personale scolastico. Con l'iniezione si lavora tutti in sicurezza. Dalla CGL, Riccariello accusa l'ASL, si è limitata a mandare una circolare senza spiegazioni. Oggi ci sono altri 385 convocati. Doria Will, possibilista, sono convinto che prevarrà il senso di responsabilità. Da Benevento, Covid 50 contagi ogni 24 ore, con il dettaglio dalla prima, in 4 giorni 208 positivi. L'assessore Rosa preoccupa, atteggiamento rilassato. OSL, il dissesto quasi chiuso, adesso comune a un bivio. I liquidatori pronti a chiedere all'ente la procedura semplificata, crediti ridotti. Covid escalation di contagi nelle scuole. Oltre 200 casi in 4 giorni in provincia, ieri 53 positivi. Focolaio a Paupisi, 11 infetti e 16 persone in quarantena. Volpe, situazione sotto controllo, ha bisogno a vaccinarsi. Rosa, preoccupare l'atteggiamento rilassato dei cittadini. Prepararsi per il futuro, il rummo resta in testa. Nella nuova edizione di Aeroscopio, punteggio top al liceo di Santa Colomba. Comunità montana, vertici sfiduciati. In sette protocollano l'istanza che pone fine all'era Sacchetti. Agostinelli, Ferella e Motola, capo della nuova governance. I promotori, decisione forte, ma non si poteva più rinviarla. Ci aspettano sfide importanti e l'immobilismo è inaccettabile. Andiamo anche a Caserta. Gang libere di devastare nel dettaglio dalla prima. Terra di lavoro, l'allarme, l'ennesimo sabato fuori controllo per quanto riguarda l'ordine pubblico. Fioriere distrutte, lancio di sedie contro i passanti in pieno centro. L'ira della minoranza biodigestore De Luca offende e non chiarisce. Quattro consiglieri chiedono al sindaco di illustrare il reale rischio dell'impianto. Il Vescovo aveva invitato al dialogo positivo. Fio del Gaudio vuole un confronto pubblico. Sedie contro i passanti, nessuno ferma i vandali. In pieno centro a Caserta distrutte alcune fioriere e danneggiate altre. I controlli fissi delle forze dell'ordine sono spariti dopo alcune settimane. La rabbia dei soci del circolo nazionale da salotto buono a pericoloso Bronx. Proventi delle multe tracciati e visibili, ma Caserta è a zero. Negli ultimi tre mesi non è stata incassata neanche una multa e cala anche Marcianise, mentre a Teverola non c'è riscontro. Via i partiti, spazio alle liste civiche a capo, a uno dei nomi che avanza per la candidatura a sindaco e l'avvocato Brogna che correrebbe senza bandiere politiche. L'ex primo cittadino branco messo alle strette scelga se starci. Realistico Villani, sbagliato, affrancarsi dagli schieramenti. La prima con riferimento a Salerno muore la mamma senza vaccino. Positiva durante la gravidanza, ricoverata a Napoli d'agosto. La figlia nata prematura non ce l'ha fatta. La 27enne cilentana si era negativizzata, ma le condizioni restavano gravi. E a Sassano il Covid uccide uno 59enne. Noi medici vaccinatori, tra dubbi degli indecisi e problemi organizzativi. L'intervista a Delio Giusto, terza dose. In tanti chiedono chiarimenti e preferiscono aspettare o recarsi nel lab. Tema sicurezza, troppa folla ha chiuso un bar a Battipaglia e scatta la multa. Muore Antonietta, la mamma cilentana che non era vaccinata. Le avevano sconsigliato il siero perché è incinta. Si è spinta dopo tre mesi in corsia. Anche la figlioletta non è sopravvissuta. La fine, 20 giorni dopo, un parto prematuro. E tornano a riempirsi i due poli Covid e tra i ricoverati prevalgono i Novax. Un'infermiera in cura a Scafati nel suo stesso reparto potrebbe aver contratto il virus in ospedale. Qualità della vita, Salerno recupera, ma è allarme lavoro. Si resta nella parte bassa della classifica. In Campania va meglio soltanto Avellino. Nell'agro, farmacie, nel mirino dei ladri. E poi un Natale giù dal fiordo di furore. Corpo disperso dalle correnti. La tragedia di Natale ancora. Ricerche con l'ecoscandaio per ritrovare la salma del 24enne che potrebbe essere lontana dalla costiera. L'incidente, Enza e Greta. La verità, dal GPS delle auto distrutte. Mamma e figlia morte sulla statale. Gli investigatori analizzano i dati per ricostruire l'esatta dinamica per la politica. La richiesta di dimissioni del sindaco da parte del Movimento 5 Stelle. Vediamo. L'inchiesta giudiziaria che ha travolto il comune di Salerno nei giorni successivi alle elezioni continua ad alimentare lo scontro politico. A poche ore dalla proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale è il Movimento 5 Stelle a lanciare la prima stoccata al sindaco Enzo Napoli invitandolo a fare un passo indietro. La condanna da parte di tanti cittadini onesti di Salerno nei confronti di questo sistema è una condanna tutta politica e quindi è il motivo per il quale noi continuiamo a chiedere al sindaco Napoli ancora oggi, oggi ha maggior ragione e con più forza di dimettersi perché se tante persone dicono che è una brava persona, beh se lui è una brava persona allora deve lasciare libero il campo da ogni ombra e non coprire con la sua faccia la faccia di qualcun altro. Un fuoco incrociato dal quale dovrà riuscire a difendersi la maggioranza che in ogni caso è pronta a fare scudo sul sindaco come ribadito da Giuseppe Zitarosa consigliere giunto alla sua quinta consigliatura. Sicuramente c'è questa piccola tegola che è caduta però a Salerno l'immagine di Salerno in questo momento è un po' inclinata però io sono convinto che altri 150.000 cittadini salernitani sono delle persone per bene come tutti i consiglieri comunali di questa SIS sono delle persone per bene cominciando dal sindaco che oltre ad essere un grande professionista è una grande persona dal punto di vista umano e dal punto di vista della trasparenza e della serietà. La prima di le cronache salernitana ultimo giorno acquirenti ora o mai più oggi sarà la volta buona ansia tra i tifosi e oggi la riunione dei capigruppo l'ex assessore De Maio non mando segnali di con un'assenza anche 5 anni fa non ero presente alla proclamazione ora si convoca il consiglio e si inizi a lavorare Salzano ha sbagliato andiamo anche sul nostro sito www.topagine.it come di consueto i dati 875 positivi e 1 d'eccesso nelle ultime 24 ore il covid in Campania l'attualità da Ascea muore in ospedale Antonietta la giovane mamma cilentana aveva 26 anni ricoverata al policlinico di Napoli aveva perso la piccola Sharon nata prematura in prima l'esplosione del contagio 295 casi in una settimana prof positivo ad Avellino allerta ad Ariano altri 10 infetti 9 solo nel capoluogo 49 casi in 24 ore in Irpinia da Salerno scomparso in mare continuano le ricerche del 24enne lanciatosi dal ponte di furore le condizioni meteo marine non favorevoli rendono le operazioni di ricerca particolarmente complesse continuano le ricerche in mare del ragazzo di 24 anni di San Valentino Torio che nella giornata di venerdì si è lanciato secondo quanto ricostruito dal ponte del fiordo di furore le operazioni di ricerca cominciate nella notte del 12 novembre scorso e rese ancora più difficili dalle condizioni meteo marine non favorevoli non hanno ancora dato nessun esito le ricerche sono coordinate dalla sala operativa del quarto centro di ricerche marittime della guardia costiera della campania in sinergia con il comando della guardia costiera di Salerno inoltre da Napoli offende i carabinieri su tiktok e poi va in caserma denunciato il video è arrivato anche ai militari covid ad Ariano torna la paura ma garantite le celebrazioni eucaristiche diocesi alle prese con 18 sacerdoti in isolamento da Benevento piano di ripresa Mastella cabina di regia con esperti degli Atenei il sindaco annuncia per la città la progettazione sarà concertata con docenti esperti è tutto per la rassegna stampa ringrazio in regia Aldo Fenizia buon proseguimento di giornata sul canale 696 grazie grazie